Emergenza abitativa, Fano ancora soffre di questo problema per quanto riguarda anche il caro Affetti. Ebbene, dal primo dicembre c'è già un bando pubblicato nel sito del Comune che predispone opportunità per coloro che hanno un reddito limitato. Di che cosa si tratta, Assessore? E' quello che prende le mosse dal bando dell'avviso pubblico che ogni anno facevamo uscire per il sostegno al pagamento del canone di locazione, il cosiddetto bando Affetti. Quest'anno con la differenza che, al contrario degli altri anni, negli ultimi due, tra l'altro Fano era stato il Comune più virtuoso delle Marche perché aveva ricevuto dai fondi dello Stato un fondo nazionale dedicato proprio agli affitti, al sostegno al pagamento del canone di locazione che poi viene ripartito alle regioni. E il Comune di Fano negli ultimi due anni, proprio perché aveva aggiunto risorse proprie, era scattato un effetto moltiplicatore premiante. Quindi aveva ricevuto la cifra, diciamo, l'importo più alto, più elevato della regione Marche e degli altri comuni. Quest'anno purtroppo, e lo devo osservare anche in maniera fortemente critica, nello Stato, né tantomeno la regione Marche, al contrario di altre regioni, esempio la regione Toscana, hanno messo a disposizione dei comuni queste risorse. Quindi noi ci siamo trovati, diciamo, a fine anno a fare una scelta condivisa anche con l'assessore al bilancio, col sindaco, con la giunta, di destinare sempre risorse nostre, maggiori rispetto a quelle dell'anno scorso, ma chiaramente inferiori rispetto a quello che si poteva comunque reperire o avere a disposizione dalle risorse statali. E quindi, ecco, l'intervento che proponiamo con un bando che è già fuori dal primo dicembre e scade poi il 31 dicembre, al quale si può accedere con procedura telematica, c'è un form da compilare e con accesso tramite speed e carte d'identità elettronica, ma anche con tutto il supporto che l'ufficio di promozione sociale mette a disposizione per aiutare anche chi ha meno dimestichezza con questi mezzi. E mettiamo a disposizione 290.000 euro, che però l'abbiamo chiamato sostegno all'abitazione perché è un sostegno più ampio, nel senso che riguarda il sostegno al pagamento del canone di locazione, quindi dell'affitto, ma anche il sostegno al pagamento dell'utenza idrica, perché utilizziamo risorse dal bilancio comunale, di cui 200 sono a disposizione per il pagamento dell'affitto e 90 invece sono le risorse che Aset ogni anno ci mette a disposizione, che in questo caso vanno per l'utenza idrica. E che sono destinati questi contributi? C'è una fascia di reddito di ISE? Sì, ci siamo concentrati su davvero le fasce che hanno maggior bisogno e che sono coloro che hanno un livello ISE sotto i 9.360 euro, che è la fascia ISE considerata per il reddito di cittadinanza, oggi per l'assegno di inclusione, insomma è la fascia, diciamo, cosiddetta la soglia di povertà. E invece per coloro che non sono in locazione, quindi non possono percepire il contributo per l'affitto, percepiscono solamente quello per l'utenza idrica di 200 euro.